Il diritto di crescere è un diritto non banale. Insieme in un'alleanza le istituzioni, le famiglie, la scuola devono riuscire a garantire ai ragazzi un diritto di crescere con una qualità della vita, con una prospettiva perché sono la nostra risorsa. I domani ricorrono i 25 anni dalla firma della convenzione sui diritti del fanciullo. La convenzione internazionale ancora oggi più firmata al mondo, è una convenzione che per la prima volta definisce il bambino portatore di diritti e interessi propri ed è un atto giuridico internazionale che ridefinisce i confini anche della nostra azione quotidiana nel riconoscimento, nella realizzazione del diritto di crescere di ogni bambino e di ogni bambina in Italia, nell'Unione Europea e nel mondo. Questa giornata mi sembra particolarmente importante perché mette al centro il diritto di crescere e fa sintesi su tutto il territorio regionale di tutti i lavori fatti, le riflessioni, le produzioni e in questo modo secondo me dà effettivamente tanto valore alla celebrazione della giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Mi pare, come dicevo, interessante la trasversalità con cui si è affrontato il problema, i giovani, i minori piccolissimi, i minori zanieri non accompagnati, cioè tenere insieme questa fase della crescita dei nostri ragazzi e tenerla insieme nella responsabilità del governo regionale sicuramente ma con un grande coinvolgimento dei territori. Mi ha fatto molto piacere e sono venuta molto volentieri perché ho visto una grande partecipazione dei territori, sia delle persone che lavorano nei servizi del sociale che della scuola che della sanità, sia pubblico che del terzo settore. Quindi questo veramente penso possa essere il patrimonio importante di questa giornata e penso che possa dare più diritto di crescere ai giovani della Liguria. La prima cosa che vorrei sottolineare è una funzione molto importante rispetto ai servizi, agli operatori, che è un'informazione rigorosa e puntuale sulle cose fatte e da fare, un po' anche a livello nazionale oltre che a livello regionale. Poi vorrei sottolineare un aspetto fondamentale del convegno che tutela proprio dei minori. La responsabilità degli assistenti sociali e degli operatori sociali è fondamentale per la garanzia dell'esercizio reale di questi diritti, cioè che questi diritti non siano cultura soltanto ma siano effettività dei diritti. Per far questo è necessario che ci sia una informazione, una consapevolezza sui cambiamenti e sulle criticità sociali e soprattutto che ci sia una competenza specifica per il settore e una stabilità degli operatori. Questo significa anche che le istituzioni devono impegnarsi e riconoscere la necessità di formazione continua degli assistenti sociali e se necessario anche tener conto delle ipotesi disciplinari che garantiscono maggiore equità a tutte le parti. Informate Connesso 2 è la seconda edizione di una strategia di lavoro molto operativa che consiste nel proporre ai giovani di coinvolgersi e realizzare delle opere di comunicazione di grafica, fumetto e video su tre tematiche. Quest'anno abbiamo il gioco e il corpo, quindi tratteremo il doping, il gioco e il denaro, tratteremo quindi il gioco e l'azzardopatia, il gioco e la mente e quindi quello che è il mondo virtuale e le azioni degenerate che abbiamo attraverso il web, molestie, ciberbullismo ed altro. Su queste tre tematiche il coinvolgimento dei giovani 16-29 anni viene visto in una prospettiva nella quale vogliamo lavorare con le competenze delle persone pensando anche a quello che è un progresso di crescita che passa dalle medie superiori a addirittura essere poi motori con associazioni con capacità di alto livello in pochi anni motori del territorio, motori della realtà in cui si vive e questo è un aspetto culturale in cui forse bisogna migliorare e crescere da parte un po' di tutti anche delle amministrazioni in quanto i ragazzi non sono soltanto delle persone in qualche modo da far ragionare ma sono delle persone che hanno competenze e qualità che possono essere patrimonio di tutti. Il tavolo è riguardato i diritti dei più fragili, allora chi sono i piccoli fragili? Sono sicuramente i minori stranieri non accompagnati, sono i bambini che vivono nelle comunità romsinti e camminanti e sono i bambini e i ragazzi che devono essere allontanati dalle loro famiglie e in questo senso abbiamo messo a fuoco chi sono, chi lavora con loro, moltissimi soggetti che devono assolutamente lavorare in rete lo sappiamo, il tribunale, i servizi sociali, i servizi sociosanitari, i consultoriali, il terzo settore, la scuola dobbiamo prevenire, dobbiamo lavorare sulla resilienza, quindi aiutare le persone, sia i bambini sia le loro famiglie a recuperare le loro energie, a recuperare le loro competenze da parte del consultorio una capacità, un'attenzione a mettere a fuoco i problemi subito, al più presto, già in fase per i Natale da parte dei servizi sociali, l'attenzione alla tutela dei diritti e quindi richiama la responsabilità dell'operatore sociale dell'assistente sociale nell'attenzione alla tutela dei diritti dei minori e il terzo settore anche loro molto presenti sul tema con tutte le attività che lavorano sia sul recupero delle capacità del minore ma anche tutte queste attività che stanno sviluppando, se in quale crediamo molto, di recupero delle competenze della famiglia quindi valorizzazione degli interventi che prevengono l'allontanamento dalla famiglia Allora io ho presentato oggi un nuovo progetto, un progetto che sta proprio in queste settimane prendendo il suo avvio si chiama Relig, Rete Liguria ed è un progetto che intende lavorare nell'area delle problematiche del penale minorile mi sembra importante dare alcune sottolineature questo progetto si concentra molto sul come lavoriamo, oltre che su che cosa facciamo perché dobbiamo necessariamente anche in un periodo di ristrettezza di risorse come questa ottimizzare al massimo l'utilizzo delle poche risorse disponibili questo progetto peraltro è finanziato completamente da due fondazioni bancarie la Compagnia di San Paolo e la Fondazione dei Mari, Cassa di Risparmio di Savona e quindi non ha un utilizzo e un impiego diretto di risorse pubbliche ma questo non è un alibi, dobbiamo lo stesso ovviamente mettere a reddito il più possibile le risorse disponibili il come lavoriamo è in un modo fortemente integrato con un polo di regia che governa il progetto e che prevede la partecipazione sia delle fondazioni che del parternariato di cui il consorzio è capofila ma anche naturalmente dei servizi territoriali, dei distretti sociosanitari, della regione Liguria stessa e degli uffici del Ministero della Giustizia, il CGM e l'USM in particolare oltre che dell'autorità giudiziaria minorile e come dire, citare tutti questi soggetti fa sottolineare un altro aspetto qualificante di questo progetto che è quello di cercare di intervenire in modo integrato sia sugli aspetti preventivi che sono appunto di competenza in particolare dei servizi territoriali sia anche già sulle situazioni ahimè che necessitano anche di un intervento riparativo cioè dei ragazzi che già sono in corso in problematiche penali cercare di operare parallelamente in modo integrato sia sul fronte della prevenzione che sul fronte del recupero credo possa dare un ulteriore significato specifico a questa nuova iniziativa Allora io credo che dobbiamo riflettere su una cosa che potrebbe sembrare banale e cioè che cominciamo ad apprendere da subito e allora è molto importante e anche in qualche modo responsabile il fattore formazione, apprendimento Ora la consigliera di parità si deve ovviamente occupare di maschio e femmine Ecco io credo che nella formazione e nell'apprendimento il fattore sesso sia particolarmente importante perché? Perché spesso e volentieri noi trasferiamo stereotipi ai nostri ragazzi, ai nostri figli magari anche senza neppure accorgerci e con questo trasferimento condizioniamo le nostre vite future Io sono fermamente convinta che la stessa violenza nasca proprio da un atteggiamento stereotipatico da parte della persona che la violenza agisce E dunque io credo che il ruolo della formazione della scuola sia basilare anche in considerazione del fatto che spesso e volentieri le famiglie diciamo possono essere distratte o attente ad altro rispetto a questo tipo di problematica Per questo motivo è stata la mia adesione a tutti i percorsi formativi che si sono fatti in questo senso nella nostra regione è stata non soltanto fattiva ma anche molto convinta Stiamo parlando al 30 settembre del 2014 di circa 9.000 minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale Di questi 7.000 circa sono arrivati nel nostro paese attraverso gli sbarchi che conosciamo dai telegiornali Per dare un raffronto sempre attraverso questa modalità di arrivo in Italia In Italia gli adulti sono stati 116.000 al 30 settembre Ora non si può affrontare il problema dei minori stranieri non accompagnati senza rivedere complessivamente le leggi in materia di immigrazione e soprattutto aggiungo senza che il nostro paese unico in Europa non abbia una legge sul diritto d'asilo Questo è un problema che va affrontato con azioni di sistema Do un dato su tutti, la legge Bossi-Fini che attualmente norma l'immigrazione non permette dalle 2002 ingressi regolari nel nostro paese se non attraverso il decreto flussi Come affrontare la questione dei minori stranieri non accompagnati? Intanto affrontandoli come minori prima ancora che come stranieri Quindi al di là della loro nazionalità di appartenenza E quindi ritengo una riforma della modifica sulla cittadinanza Noi abbiamo già un sistema di accoglienza che è il sistema SPRAR Io credo che questo è il sistema o questa è la modalità su cui si dovrebbe intervenire sui minori stranieri non accompagnati Possibilmente evitando attraverso questo sistema che non ricada il tutto sui comuni e sugli enti locali ma sia una questione che affronta direttamente lo Stato I numeri ce lo permettano Queste prime indicazioni credo che dovrebbero essere il nodo centrale di una riflessione più ampia che deve fare il governo e solo il governo Il diritto di crescere è prima di tutto il diritto di vivere in quel momento l'età che si ha e avendo l'età che si ha da ragazzini, da bambini poter essere presi sul serio per quell'età lì cioè non essere solamente quelli che saranno gli adulti di domani o quelli che adesso non sanno le cose ma essere piano piano abituati a dire la propria opinione sbagliando e dando anche delle facciate contro la realtà in questo aiutando tutti a capire che il mondo è fatto di alluvioni e per cui bisogna muoversi e prendere una pala ma è fatto anche di gioco, è fatto di scoperta dell'altro e poi man mano che si cresce è fatto di affetto è fatto di sessualità, è fatto di film, di musica e di tante cose ma è fatto anche di responsabilità prima di tutto verso se stessi il problema è che se non siamo abituati sin da piccoli a provare questo tipo di esperienza su di noi in relazione agli altri poi rimarremo piccoli il diritto ad essere studenti è un diritto che bisogna cominciare a esercitarlo prestissimo bisogna cominciarlo a poter essere studenti fin dai tempi della scuola dell'infanzia può essere un paradosso e in realtà ormai è chiaro che si studia bene e si ha un successo formativo vero se si comincia molto presto e se si comincia nel nido e nelle sezioni primavera ad avere esperienze educative è ancora meglio per questo ci stiamo dando da fare perché quanti più bambini possano avere questo diritto noi abbiamo avuto un'esperienza veramente positiva rispetto alla possibilità che ci è stata data per i ragazzi per i corsi learning i corsi learning erano corsi a distanza di inglese francese spagnolo tedesco computer arabo e italiano per stranieri questo ha permesso di offrire ai ragazzi veramente delle competenze ulteriori ha permesso ai ragazzi di incontrarsi nelle sedi dei giovani quindi come l'informa giovani come centri giovani ha permesso di fare a casa il corso e quindi di creare un legame anche con i genitori che avevano bisogno magari di aggiornarsi rispetto alle lingue rispetto al computer e ha permesso di creare un legame tra i ragazzi e le istituzioni perché hanno visto le istituzioni come qualcosa che offrivano una possibilità concreta e immediata nel senso che il ragazzo chiedeva e due giorni dopo aveva la licenza e poteva fare il corso e sembrerà una sciocchezza ma questa immediatezza ha avuto un successo enorme noi avevamo un passaparola grandissimo abbiamo avuto tassi dell'80% di maggiori iscrizioni ogni anno per tutti gli anni che si sono succeduti quindi è stato un grandissimo successo noi speriamo che si possa riproporre ci sono tanti modi di stare dentro alla giornata internazionale dei diritti dell'infanzia questa occasione di oggi mi sembra un'occasione molto poco celebrativa e molto concentrata sulla necessità di riflettere insieme per non fermarci alle parole ma costruire fatti e opportunità vere per la qualità di vita dei bambini l'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia dei nidi è un ambito che guarda con ottimismo al futuro perché corrisponde all'affermazione del diritto di cittadinanza dei bambini attraverso il diritto all'educazione anche a partire dai primi anni di vita. Il caso Ligure è un caso rappresentativo delle esperienze di eccellenza in Italia perché la Ligure insieme alla Toscana, all'Emilia Romagna e all'Umbria è una delle quattro regioni che hanno un tasso di copertura per i servizi educativi 03 che ha superato il 33%, l'obiettivo che la comunità europea aveva indicato per tutti i paesi nel 2010 ma questa condizione privilegiata, questo traguardo quantitativo è un traguardo che ha saputo conciliarsi con un'attenzione molto forte anche per la qualità dei servizi. Oggi abbiamo presentato l'esperienza del sistema di accreditamento dei nidi Liguri e abbiamo presentato l'anteprima del nuovo sistema qualità dei nidi Liguri due esempi che segnano un traguardo che la politica può rivendicare a proprio merito anche perché lo ha costruito insieme a chi opera nel territorio, sul territorio come coordinatore o come educatore e insegnante impegnato quotidianamente nel lavoro con i bambini e con le famiglie questa politica partecipata è ciò che caratterizza positivamente l'esperienza Ligure e mi pare interessante notare come sia un tratto trasversale delle politiche sociali che la Liguria rivolge all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia Ricordiamo la ricorrenza del 25 anni della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che come ho anche detto non è una giornata in cui dobbiamo fare delle celebrazioni è una giornata in cui dobbiamo fare delle riflessioni io ho portato un contributo e il saluto innanzitutto dell'Università della Pace di Lugano che quest'anno mi ha onorato di questo prestigioso riconoscimento in merito ad una valutazione sul mio curriculum soprattutto per il mio impegno come volontaria Unicef e non potevo in una giornata come questa non essere presente con questo significato perché certamente avere come obiettivo la pace significa pensare all'infanzia nella rappresentatività di tutti i suoi diritti ed è un obiettivo del lavoro quotidiano un altro contributo che ho portato a questo lavoro soprattutto nell'area dei diritti dei bambini più piccoli è stata una sollecitazione ad approfondire la nuova proposta del disegno di legge della senatrice Puglisi che praticamente prevede l'istituzione di un sistema integrato dei servizi da 0 a 6 anni intende raggiungere un obiettivo importante che sarà quello di un finanziamento da parte dello Stato nella percentuale di un 50% una contribuzione da parte delle regioni dei comuni del 30% mentre un 20% sarà a carico delle famiglie vuole raggiungere l'obiettivo entro il 2020 di avere un accesso per tutti i bambini 0,3 nella percentuale del 33% obiettivo di Lisbona che non è stato raggiunto nel 2014 e la totale accessibilità anche dei bambini della scuola dell'infanzia perché oggi questo non è garantito prevederà per il sistema privato accreditamento, autorizzazione al funzionamento integrazione nel sistema sociale prevede la partecipazione delle famiglie ai progetti di co-costruzione del percorso educativo dei propri figli quindi c'è una grande mobilitazione il gruppo nazionale di infanzia lo ha promosso per il 2 di dicembre perché il 2 dicembre del 71 è l'anno in cui fu approvata la legge 1044 che ad oggi è ancora la legge dello Stato in vigore nel nostro paese quindi deve certamente andare in pensione e si invitano tutti i soggetti del settore privato, pubblico, dei servizi a coinvolgere i genitori, i politici tutte le persone che hanno l'interesse, i diritti dell'infanzia a mobilitarsi e a richiedere e a sostenere questa legge dunque i minori stranieri che arrivano nel nostro paese in Italia appunto hanno una grande aspettativa di cambiare radicalmente la loro vita perché appunto vivono in contesto di conflitti civili, guerre, tra etnie, tra partiti, tra paesi e oppure semplicemente in contesto di estrema povertà e quindi quando arrivano in Italia attraversando un mare rischiando la vita, attraversando il deserto rischiando di nuovo la vita arrivano finalmente pensando arrivare nel paradiso terrestre hanno una grandissima aspettativa dell'Europa perché il loro immaginario è quello il paese civile, i paesi moderni, i paesi ricchi quindi noi dobbiamo stare attenti a non deludere la loro aspettativa quindi non dico dobbiamo dargli un appartamento dei vestiti ma di marca sicuramente bisogna garantire i diritti minimi un alloggio, il cibo adeguato l'istruzione, l'orientamento, l'informazione che non hanno bisogno ma soprattutto punterei sulla relazione relazione proprio di ti voglio bene non mi dai fastidio non mi stai rubando nulla è un mondo grande, è abbastanza per tutti quindi il messaggio di non tolleranza è un messaggio di accettazione è un messaggio di un bel sorriso sincero ma niente altro non è che voglio dividere la casa con qualcun altro nessuno me lo chiede quindi io credo che sia puntiamo su questo perché è un investimento di tutti noi cittadini di questo paese per il nostro futuro perché loro saranno presenti nel domani, nell'industria di domani nei lavori di domani e se noi investiamo un minimo attualmente il frutto lo accogliamo tra pochi anni Solo al 31 agosto di quest'anno sono arrivati 9.700 minori stranieri non accompagnati e questi sono quelli censiti in realtà sono molti di più tantissimi di loro e quando dico tantissimi purtroppo sono centinaia sono già dispersi e dispersi vuol dire che hanno fatto perdere le loro tracce e che sono finiti in circuiti insani sicuramente per loro Il modo per evitare che questo avvenga è immediatamente attivare delle tutele che siano non solo legali ma siano anche ovviamente legate all'accoglienza e censirli immediatamente e tra l'altro censirli immediatamente nella maniera corretta ovvero come minori Molto spesso succede che vengono fatti accertamenti sommari della minoretà di questi ragazzi vengono fatti gli accertamenti tra l'altro con sistemi che sono obsoleti tipo i raggi del polso e che sono assolutamente invasivi per non sottoporsi a questi esami molti di loro scappano e comunque quando vengono sottoposti a questi esami risultano quasi tutti maggiorenni anche se in realtà sono minorenni quindi questi non rientreranno mai neanche nella tutela bisogna affrontare il problema in maniera reale e in maniera olistica comprendendo tutto insomma perché parliamo di minori e se parlassimo non di minori stranieri non accompagnati ma ci focalizzassimo sul fatto che sono minori i dati relativi alle loro scomparse dovrebbero farci accapponare veramente la pelle e non penso che sia sopportabile oltre l'idea che questi ragazzi che hanno scampato tutto guerre, deserti tantissimi stupro il mare hanno visto morire tutto quando arrivano qua vengono trattati in condizioni tali per cui si devono dare la macchia e per cui poi ne perdiamo le tracce ci sono iti che si dice